Musica Ben trovati al confronto tra i candidati alla presidenza della regione Lazio Francesco Storace, 54 anni, nato a Cassino, sposato, una figlia, segretario della destra capogruppo al consiglio regionale del Lazio, candidato per il centro-destra Davide Barillari, 38 anni, nato a Milano, sposato, un figlio, in attesa del secondo è consulente informatico, candidato per il Movimento 5 Stelle Simone Di Stefano, 36 anni, nato a Roma, separato, due figlie è uno dei fondatori di Casa Pound, di cui è vicepresidente candidato per la lista Casa Pound Italia Giuseppe Rosso Di Vita, 43 anni, nato a Milano, separato, due figli, avvocato capogruppo radicali nel consiglio regionale del Lazio candidato per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà Giulia Buongiorno, 46 anni, nata a Palermo, un figlio, avvocato penalista presidente della Commissione Giustizia della Camera candidata a lista civica per Buongiorno Presidente, con Udc e Fli Nicola Zingaretti, 47 anni, nato a Roma, sposato, due figlie presidente della provincia di Roma dal 2008 è candidato per il centro-sinistra Allora, bentrovati a questo confronto vi ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito abbiamo già di fatto illustrato ai vostri staff le regole di questo confronto io le ricordo per voi e per i telespettatori vi farò a tutti le stesse domande avrete tutti lo stesso tempo per rispondere vi chiedo ovviamente di non sforare avrete anche a disposizione tre diritti di replica che potrete utilizzare quando volete voi tre diritti di replica di 30 secondi, non di più avrò la possibilità di intervenire durante le vostre risposte qualora andaste fuori tema qualora magari attaccaste troppo un vostro avversario piuttosto che illustrare i vostri programmi questa regione ha bisogno di molti ha bisogno anche di molti numeri, esempi, idee e noi ce le aspettiamo da voi questa sera vi ricordo anche che chi sta a casa a chi sta a casa chiederemo chi vi sta convincendo di più in particolar modo dunque se sarà Francesco Storace, Davide Barillari e ancora Simone Di Stefano, Giuseppe Rosso di Vita, Giulia buongiorno o Nicola Zingaretti si può esprimere la preferenza tramite il nostro MySky connesso a internet premete il tasto verde del telecomando Sky o anche attraverso l'app TG24 per iPad e iPhone scaricabile gratuitamente ricordiamo il nostro non è un sondaggio lo ricordiamo più volte è soltanto una manifestazione di opinione una rivelazione aperta a tutti i nostri telespettatori questa era la breve introduzione adesso però andiamo subito alle domande io le ho qui di fronte con le nostre carte grazie a tutti